Operazione Verità sul decreto sblocca cantieri. È stato questo l'obiettivo della conferenza stampa convocata dagli onorevoli 5 Stelle Antonio Zennaro, Fabio Beradini e Valentina Corneli. Un incontro per spiegare le novità presenti nel decreto che a detta degli onorevoli porterà numerose risorse per l'Abruzzo e per Teramo. Ci saranno così anche più assunzioni negli uffici per la ricostruzione in modo da poter smaltire finalmente più pratiche. Abbiamo voluto fare un'operazione verità per spiegare cosa c'è nel decreto sblocca cantieri. Siamo stati continuamente attaccati sia dal PD e da tutta la sinistra ma anche dal centrodestra con il presidente Marsiglio e Fratelli d'Italia che poi gli stessi si sono astenuti in Parlamento e quindi non hanno votato in maniera contraria. Significa che il provvedimento poi così male non è. La verità è che in Italia abbiamo 600 cantieri bloccati di cui 540 negli enti locali. Con questo provvedimento finalmente diamo la possibilità sindaci, amministratori, presidenti di regione di sbloccare i cantieri. Stessa cosa anche riguarda i cantieri del masterplan. In Abruzzo abbiamo i cantieri del masterplan che quasi tutti sono bloccati e addirittura non si è fatta neanche la progettazione. Con lo sblocca dei cantieri diamo gli strumenti quindi non ci saranno più alibi finalmente per fare i lavori. Ovviamente i terremotati chiedono di tornare a casa. Sicuramente proprio per questo anche qui sburocratizzazione. Diamo la possibilità ai sindaci di gestire le pratiche. In questa modalità anche attraverso una relazione potranno richiedere anche il personale. Quindi mettiamo anche il personale a disposizione. Certamente bisogna anche far lavorare la macchina amministrativa. Spesso ci troviamo in situazioni in cui chi dovrebbe gestire le pratiche, ufficio regionale ma anche gli stessi comuni, magari tutto questo impegno nel smazzare le pratiche e non ce lo mettono.